ancora no brava hai fatto il video? si brava si invece la Chiara spacca figa spacca ci prende c'è da me asino la Valet l'ho soprannominata Paracarro perché è brava, dei buoni colpi ma oh la Curnianca d'Age però secondo me abbiamo qualcuno di più inchiodato in campo stasera, ecco esatto oh finalmente rivediamo la nostra Chiara Ferragni versione Padel, poi qualcosa di aggiornamento di fede Silvio, ciao